Usando sempre Noob Saibot in questo ventesimo e ultimo capitolo, sconfiggeremo Scorpion del caos. Riordatevelo ragazzi, fidatevi di me, io ho sempre detto le ose o me stanno. Non ho mai detto che questo è il miglior picchiaduro in assoluto. Abbiamo fatto tanta strada, davvero, ne abbiamo fatta di strada in questa nuova modalità storia di Mortal Kombat 1 col titolo caos sovrano. Siamo nella nostra linea temporale. Bene, abbiamo vinto, abbiamo finito. Iscrivetevi al canale e mettete un mi piace. Concludiamo il video. Ecco, è così che si vince, fratello.